con il patino l'intercetto di Ivo e poi il tocco con la mano di Pozzato accelera Lady Fox, colpo falloso di Amato, c'è la sanzione disciplinaria ai danni del numero 2, cartellino blu tempo, gol, Pablo Saavedra e va a realizzare 1-0 il vantaggio della formazione di casa Max Thiel, inserimento letto dalla difesa del Bassano, l'opportunità con il gol Thiel, il contropiede portato da Guimaraes, Guimaraes 1 pari in fase d'attacco 15 secondi Thiel che scambia per De Oro De Oro 10 secondi, De Oro, Thiel, lo spazio, si conquista lo spazio ma va a concludere, segna Max Thiel Thiel, allo scadere dei 45 secondi, il nuovo vantaggio della formazione di casa si riparte dal punto dell'infrazione commessa da De Oro, col bastone troppo alto, conclusione, gol immediato, il gol è di Amato, parità 2 pari grazie